Musica Non ho avuto proprio un rapporto sessuale E cos'è avuto? Da toccarci e baciarsi Si racconta di tutto Allora, con la mia amica lì Era venuta qui a casa mia Allora mentre giocavamo Mi spiegavo che cos'è il rapporto sessuale No? Capito? Cioè che provi piacere Che provi bene Che provi l'amore Tutte provi insomma Cioè pensi delle cose fuori da normale Quando fai l'amore No? Giusto? Allora Lei ha detto se provavamo Giusto? Allora io ho accettato E siamo andati inizio alla collina E dopo ho finito la registrazione Te lo farò vedere Vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi No? Baciarsi Abbiamo cominciato a toccarci E provevamo del bene Dopo abbiamo finito E io gli ho chiesto se era stato bello E lei mi aveva detto Che non aveva mai provato una cosa simile No? No? Giusto? Giusto? Allora Gli ho detto E sono molto felice Lei e anche lei Dopo siamo andati lì E abbiamo giocato continuamente Però Eravamo più felici Cioè eravamo più contenti Giocavamo più bene Insomma E mi puoi spiegare di questo Poi una volta Poi una volta Cioè M'hanno Mentre mi faceva una sega Mi ho uscito una roba Come panna montata No scherzo E una roba Sfricida E bianca Beh no su bianca Sul grigiastro No? Vedi? E' bianca Molto più bianca Che il grigiastro Era molle No? Cioè Era Solida Un po' solida No? Come la lava Hai presente la lava? Metti la lava Bianca No? Allora Quando mi è uscita questa lava Ho provato piacere E sono andato a vedere su un libro E spiegava che era il seme dell'uomo Cioè che con quel seme lì Poi fecondare una donna Eccetera eccetera No? Fiero E allora Io Ero fiero No? Perché un bambino di nove anni Ce ne è pochi Che venga un seme presto Chi è? E allora Ero molto fiero Ma perché i bambini Non si possono abbiare E toccare quanto vogliono? Ma non lo so Forse perché provano Timore Oppure Non vogliono i genitori Ma perché non vogliono? Oppure perché non possono capire I genitori Il bene di una bambina O di un bambino E prova a spiegare tu Cos'è il bene Hanno bisogno No i bambini E le bambine Eh sì Prova a spiegare Questo bisogno Evi Allora E mi spiego Con le mie parole I bambini Hanno bisogno Del bene Come i grandi No? Perché i bambini Sono degli esseri umani Come tutti No? Sono degli esseri umani Però più piccoli E se vuole un bambino Cioè Con la memoria Può essere come un grande Agli stessi E spiegati meglio Dai che stai dicendo Delle cose importanti Come devo spiegarmi meglio? Cosa vorresti che dicessi Sarei grandi Delle bambini? Che siamo come loro E cioè? Come cioè? L'adulto ha la macchina Ha l'amore Ha la ragazza Ha tutti Beh Ha le armi E noi dobbiamo Muovere i bambini Come loro Cioè Viene tutta la Sì Perché i bambini Se gliele fai capire E così Perché vedi Che i maschi Buh 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 Con le pistole Sparano per così Invece i bambini Se gliele fai capire Tengono le armi Per collezioni anche vere E sparano Magari per l'ultimo dell'anno Un colpo alla volta E basta E invece i grandi si ammazza Beh Come quella guerra lì Quale guerra? Tra L'Inghilterra E in Fiorentina Una guerra Stupida Stupida Per due isole Per due isole Io avrei fatto Una a te E una a me E vai fanculate No? Invece Anche ieri Due aeroplani Dei jet Che costano Tre milioni Ma io non li spendo Di jet Io li spendo Per fare una bella vita Tre miliardi Io li spendo Per fare una bella vita E non per fare la guerra E tu sai che bella vita Fareste Tant'è Ma Comprerei una casa In campagna Con una piscina Con casa da lavorare Con la mia ragazza Andiamo in piscina E stiamo lì Fino alle sette Poi veniamo in casa Facciamo la doccia assieme Ci laviamo assieme Cioè Lei mi lava me Io la lavo lei Dopo mangiamo Guardiamo la tele E andiamo a letto Io a letto Facciamo l'amore Questa è la bella vita Eh? Questa è la bella vita Per me sì Anche per me Non so per gli altri Ah Io della droga So Che è una brutta cosa No? E tutti uomini Sulla terra Siamo drogati Tutti Cioè C'è tipo Un altro tipo di droga La droga Della siringa La droga Fu male Però c'è un'altra droga Il pensiero Di cose brutte Il pensiero Di cose che non succederanno C'è un pensiero Di tutte queste cose Poi Io sono drogato Io sono drogato Io sono drogato E lo ammetto Di che fumo? Ma di fumo Cioè Quando mia mamma fuma Io Cioè in parte che sono drogato Perché Spiro Un gas Che mia madre fa male Automaticamente Fa male anche a me Capito? Io la scuola La vivo un po' male E cioè? Perché non ne ho voglia Come vorresti che fosse Tua scuola? Beh Si studiare Quello lì si studia Però dopo A giocare A giocare Tutto il giorno a giocare E invece? Parlami della scuola Dai cazzo Invece Invece E' così Magia Si studia sempre Cioè sarà Mezz'ora di ricreazione Nel pomeriggio Ce n'è un'ora Cioè Non è molto Precisa Nelle sue cose E poi La scuola E' una cosa Da stare in gabbia Cioè Non La scuola Non puoi vivere Non puoi Giorare Non puoi far l'amore No? E allora Per me la scuola E' una gran cazzata Cioè Poi Sai Quando La maestra Ti chiama Cioè Fa una cacchiata Perché uno Magari non ha studiato Gli dà la notta Cioè Sono robe Che nella vita Non c'entrano La notta Quelle cose lì Non c'entrano Invece Voglio vivere Voglio vivere Voglio essere libero Vai in Cina Vai in America Vai in Stati Uniti Vai in New York Tutte le parti del mondo Così puoi scoprire Che nel mondo Ci sono delle altre Cioè Delle altre Modi diversi Da pensare Ti faccio un'ultima domanda Perché secondo te I bambini Vengono trattati In un modo così Strano Dagli adulti Come se fosse la scena Perché i bambini Gli adulti Credo che i bambini Non siano buoni Da fare niente Invece Invece Magari Se vogliono I bambini Sono superiori Dei grandi Perché hanno Un modo diverso Da pensare Immagino le cose Più belle Più pure No? Invece I grandi Con malizia Come te E Invece Invece